La disabilità è un tema ancora molto soggetto a rappresentazioni semplificate e distorte, pregiudizi che rinforzano l'idea di una diversità da emarginare o compatire. Le persone disabili oggi rappresentano una percentuale consistente della popolazione del nostro paese, per le quali è sempre più importante prevedere dei percorsi di integrazione. Qual è l'impegno delle chiese protestanti in tal senso e quale ancora è il lavoro da fare?